Su Rossini TV trovi tutti gli eventi di Pesaro, capitale italiana della cultura. Dal progetto 50x50, capitale al quadrato, che vedrà coinvolti tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino, alle iniziative, gli eventi, gli spettacoli e le novità di Pesaro 2024. La Natura della Cultura Magazine è il programma che andrà in onda lunedì, mercoledì e venerdì alle 8.10, 13.10 e 20.10 che ti permetterà di rimanere sempre aggiornato su tutti gli eventi dedicati a Pesaro, capitale italiana della cultura.